Io sono un diamante, una meraviglia e merito il meglio. Io sono un essere incredibilmente speciale e troppo importante per essere perso. Io mi sento sempre amata, rispettata e adorata da chiunque desideri, soprattutto dalla mia persona specifica. Tutti mettono sempre i miei bisogni al primo posto e ho sempre la fila di persone pronte ad aiutarmi e a supportarmi. Io sono letteralmente la priorità per tutti e i miei bisogni sono sempre importanti e soddisfatti. Io mi sento sempre ascoltata, la priorità numero uno nella vita della mia persona specifica. Ogni respiro che fa pensa solo a quanto voglia passare più tempo con me. Mi sento sempre stimata, amata, apprezzata ed inestimabile valore in questa relazione. La mia persona specifica fa di tutto per farmi sentire importante, speciale, amata e il top delle sue priorità. Il mio amore è la mia presenza, sono il suo carburante quotidiano. La mia persona specifica mi vizia quotidianamente, il suo amore è la definizione di devozione. La mia persona specifica sa bene quanto è fortunata ad avermi. Si sente come se avesse ricevuto il regalo più bello del mondo e le sue azioni sono sempre in linea con questo pensiero. La mia persona si sente fortunata perché io sono il top del top, racchiudo tutto ciò che ha sempre desiderato. Considerarmi e trattarmi come una priorità è un istinto naturale per le persone, in particolare per la mia persona specifica. Sono sempre al primo posto nella sua vita. Adora passare tempo con me e me ne chiede sempre di più. Crea sempre più tempo da investire in me nella nostra relazione e lo capisco perché sono unica e insostituibile per lui. La mia persona specifica si preoccupa sempre per me, compie sempre azioni per assicurarsi che io stia bene, che i miei bisogni siano soddisfatti e che mi ricordi che sono la cosa più importante della sua vita. Il suo comportamento è ineccepibile, vuole sempre essere certo al 100% che mi senta amata, protetta, validata e numero uno nella lista delle sue priorità. La mia persona specifica mette sempre più impegno di me nella nostra relazione. Sono la sua ragione di vita. Adora essere il mio eroe, sempre presente e costante con me. Per la mia persona specifica io sono il numero uno in tutto e tutto il resto può sempre aspettare. Sono sempre stata una priorità. È importante. Nessuno è minimamente paragonabile a me. Nessuno a me e quello è il mio potere. Ottengo sempre ciò che voglio senza sforzo e senza chiedere. Ho sempre il posto numero uno nella vita delle persone che desidero, soprattutto per il mio partner. Io sono un diamante, una meraviglia e merito il meglio. Io sono un essere incredibilmente speciale. È troppo importante per essere perso. Io mi sento sempre amata, rispettata e adorata da chiunque desideri, soprattutto dalla mia persona specifica. Tutti mettono sempre i miei bisogni al primo posto e ho sempre la fila di persone pronte ad aiutarmi e a supportarmi. Io sono letteralmente la priorità per tutti e i miei bisogni sono sempre importanti e soddisfatti. Io mi sento sempre ascoltata la priorità numero uno nella vita della mia persona specifica. Ogni respiro che fa pensa solo a quanto voglia passare più tempo con me. Mi sento sempre stimata, amata, apprezzata ed inestimabile valore in questa relazione. La mia persona specifica fa di tutto per farmi sentire importante, speciale, amata e il top delle sue priorità. Il mio amore è la mia presenza, solo il suo carburante quotidiano. La mia persona specifica mi vizia quotidianamente. Il suo amore è la definizione di devozione. La mia persona specifica sa bene quanto è fortunata ad avermi. Si sente come se avesse ricevuto il regalo più bello del mondo e le sue azioni sono sempre in linea con questo pensiero. La mia persona si sente fortunata perché io sono il top del top, racchiudo tutto ciò che ha sempre desiderato. Considerarmi e trattarmi come una priorità è un istinto naturale per le persone, in particolare per la mia persona specifica. Sono sempre al primo posto nella sua vita. Adora passare tempo con me e me ne chiede sempre di più. Crea sempre più tempo da investire in me nella nostra relazione e lo capisco perché sono unica e insostituibile per lui. La mia persona specifica si preoccupa sempre per me. Compie sempre azioni per assicurarsi che io stia bene, che i miei bisogni siano soddisfatti e che mi ricordi che sono la cosa più importante della sua vita. Il suo comportamento è ineccepibile. Vuole sempre essere certo al 100% che mi senta amata, protetta, validata e numero uno nella lista delle sue priorità. La mia persona specifica mette sempre più impegno di mano nella nostra relazione. Sono la sua ragione di vita. Adora essere il mio eroe, sempre presente e costante con me. Per la mia persona specifica io sono numero uno in tutto e tutto il resto può sempre aspettare. Sono sempre stata una priorità e importante. Nessuno è minimamente paragonabile a me. Nessuno ha me e quello è il mio potere. Ottengo sempre ciò che voglio senza sforzo e senza chiedere. Ho sempre il posto numero uno nella vita delle persone che desidero, soprattutto per il mio partner. Io sono un diamante, una meraviglia e merito il meglio. Io sono un essere incredibilmente speciale e troppo importante per essere perso. Io mi sento sempre amata, rispettata e adorata da chiunque desideri, soprattutto dalla mia persona specifica. Tutti mettono sempre i miei bisogni al primo posto e ho sempre la fila di persone pronte ad aiutarmi e a supportarmi. Io sono letteralmente la priorità per tutti e i miei bisogni sono sempre importanti e soddisfatti. Io mi sento sempre ascoltata la priorità numero uno nella vita della mia persona specifica. Ogni respiro che fa pensa solo a quanto voglia passare più tempo con me. Mi sento sempre stimata, amata, apprezzata ed inestimabile valore in questa relazione. La mia persona specifica fa di tutto per farmi sentire importante, speciale, amata e il top delle sue priorità. Il mio amore e la mia presenza sono il suo carburante quotidiano. La mia persona specifica mi vizia quotidianamente. Il suo amore è la definizione di devozione. La mia persona specifica sa bene quanto è fortunata ad avermi. si sente come se avesse ricevuto il regalo più bello del mondo e le sue azioni sono sempre in linea con questo pensiero. La mia persona si sente fortunata perché io sono il top del top, racchiudo tutto ciò che ha sempre desiderato. Considerarmi e trattarmi come una priorità è un istinto naturale per le persone, in particolare per la mia persona specifica. Sono sempre al primo posto nella sua vita. Adora passare tempo con me e me ne chiede sempre di più. Crea sempre più tempo da investire mai nella nostra relazione e lo capisco perché sono unica e insostituibile per lui. La mia persona specifica si preoccupa sempre per me, compie sempre azioni per assicurarsi che io stia bene, che i miei bisogni siano soddisfatti e che mi ricordi che sono la cosa più importante della sua vita. Il suo comportamento è ineccepibile. Vuole sempre essere certo al 100% che mi senta amata, protetta, validata e numero uno nella lista delle sue priorità. La mia persona specifica mette sempre più impegno di mano nella nostra relazione. Sono la sua ragione di vita. Adora essere il mio eroe sempre presente e costante con me. Per la mia persona specifica io sono numero uno in tutto e tutto il resto può sempre aspettare. Sono sempre stata una una priorità è importante. Nessuno è minimamente paragonabile a me. Nessuno ha me e quello è il mio potere. Ottengo sempre ciò che voglio senza sforzo e senza chiedere. Ho sempre il posto numero uno nella vita delle persone che desidero, soprattutto per il mio partner.